a tutti bentornati sul canale come state oggi sono qua perché sono in versione giveaway e si avevo preannunciato tempo fa che volevo organizzare un bel giveaway ci sono finalmente riuscita quindi questo giveaway si compone di due premi perché andremo andrò a premiare due persone due miei follower e vi faccio vedere i premi il regolamento del giveaway lo trovate qua sotto nell'info box quindi mi raccomando rispettate le regole di questo giveaway il giveaway comincia oggi e finisce il 30 di aprile poi io farò l'estrazione e pubblicherò qua un video con i nomi dei due vincitori se le persone che insomma hanno vinto vinceranno non mi contatteranno entro una settimana quando io avrò programmato il vincitore allora i premi resteranno a me e più in là magari li metterò di nuovo in palio per un nuovo giveaway ma non procederò a una nuova estrazione almeno non subito allora per partecipare dovete essere iscritti a questo canale dovete lasciare un commento e poi video vi dirò quel commento di cui di che commento bisogno perché insomma io vi regalo questi premi però voi dovete anche fare qualcosa per me poi dovete appunto essere iscritti a questo canale lasciare un like a questo video scrivere il commento e poi condividere il video dove volete voi fate partecipare i vostri amici per quanto riguarda il commento mirato io vi chiedo un aiuto allora durante questo periodo diciamo primaverile a me succede una cosa piuttosto comune a tante persone ovvero ho una fiacca tremenda non dormo tanto insomma soffro molto il cambio di stagione quindi quello che io vi chiedo è di scrivermi quali sono le vostre strategie cosa fate quando vi sentite così appunto per combattere questa situazione appunto di sofferenza del cambio di stagione quindi mandatemi scrivetemi qui sotto i vostri consigli vi faccio vedere i premi allora il premio numero uno si compone di questa palette della slick con questi colori qua mi piacciono molto mi piace molto questo colore qui questo bordeaux sono tutti mi pare belli glitterati poi c'è quest'altro premio questo qui di questa marca bang è un gel con il suo pennellino per le sopracciglia quindi troverete anche questo poi c'è una spugna in silicone per mettere il fondotinta un pennello di questi così così un po grandi che serve sempre per il fondotinta della marca ps pro una maschera di bellezza manuca anei questa qua di montagne nes e poi c'è un ombretto questo qui è un ombretto in crema questa marca zina adesso spostiamo tutto e prendiamo l'altro pacchetto allora c'è un pennello composto da due pennelli in verità ps questo è il pennello per il consigliere e per il fondotinta poi una bella palette di revolution è una palette di blush mi sono tutti i blush possibili e immaginabili poi una maschera di bellezza di h&m una cipria per il make up il la la marca è mua lax e poi ho un campioncino di perfession lumiere che è il fondotinta di chanel c'è un campioncino anche del profumo di tiffany e poi questa piccola palette di ombretti allora io vi invito a partecipare spero che questi regalini vi piacciono a me piace sempre fare questi giveaway per premiare i miei follower quelli che mi seguono sempre e anche perché no per farmi conoscere e così far crescere un pochino questo canale se avete delle domande chiedete pure scrivetemi qua sotto se qualcosa non vi è chiaro a un'ultima cosa partecipano a questo possono partecipare a questo tipo di tutti insomma è worldwide in tutto il mondo va bene io spero di essere stata chiara bocca al lupo buona fortuna a tutti mi raccomando lasciate like scrivete il commento e iscrivetevi se non siete iscritti e poi condividete ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao